Buon pomeriggio da Radio Project Mundial, è Luciano Mattuccilli che vi parla. Ringrazio lo sponsor Bed & Breakfast da Maria Grazia, sito in Roccasecca via Giovinazzi Roccasecca numero 10, in uno dei vicoli storici caratteristici della cittadina, e noto per pulizia ed accoglienza. Ieri, per i tornei e campionati organizzati dalla Project Mundial Futsal Academy, dal Project Mundial, dalla FCA Fragherle e dai comitati regionali Futsal Pic, Lazio e Campania, si è disputato l'incontro Scarsenal-Azzurra Statera. La vittoria è andata allo Scarsenal che si è imposta con il risultato di 8 a 2, con le reti di Siciliano 5, Coccola 2, Facelli 1 per lo Scarsenal, Visco ed un autorete per l'Azzurra Statera. Gli incontri riprenderanno con i di 12, ma ve ne parlerò nel prossimo intervento. Ora vi elenco il calendario degli incontri del campionato femminile PGC di calcio 5 nazionale Serie R2, girone D, Martina Fusti-Cosenza, Vittoria Talernitana, Futsal Vionero a Fragherle, Fulgo Rottaiano, uomo a Napoli, città di Taranto Futsal Reggio. Vi auguro a tutti un buon pomeriggio da Radio Project Mundial, Luciano Martucci.